Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Leadership R&D Pharma. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per essere un partner europeo di comprovata esperienza caratterizzato dalla costante attenzione dedicata al settore di ricerca e sviluppo volto a creare prodotti sicuri e innovativi che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti per l'impegno dimostrato verso l'ambiente tramite l'attuazione di politiche di CSR. Il premio va a Norgine. Saluto in collegamento con noi il general manager di Norgine, José Antonio Altozzano. Bentrovato, grazie per essere qui. Buongiorno e grazie mille per l'invito a condividere con voi l'esperienza della nostra realtà aziendale. Complimenti naturalmente per questo premio. Le chiedo di fare un commento, insomma, a caldo così per prassi. Come Norgine Italia siamo veramente felizi e orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento che premia il nostro impegno costante, iniziato 110 anni fa, per assicurare ogni giorno le cure migliori ai nostri pazienti. Un premio che va a un gruppo multinazionale che crede profondamente nella ricerca, nello sviluppo e che investe risorse, energie in questo senso, consapevole del fatto che il bisogno di salute è la prima necessità dell'essere umano. Viviamo ogni giorno al nostro lavoro con questo senso di responsabilità che ci ricorda anche la nostra missione aziendale, perché i pazienti ci ispirano. Consapevole che il nostro impegno costante ha l'oggettivo più ambizioso, assicurare a un numero sempre maggiore di persone l'accesso ai nostri prodotti. Come Norgine Italia siamo anche particolarmente fieri di rappresentare il principale motore di crescita della nostra azienda, con un tasso del 19% sul 2018. Tuttavia non avremmo potuto raggiungere questi risultati senza il contributo e il coinvolgimento della nostra risorsa più preziosa, che sono i nostri dipendenti. Naturalmente anche i nostri prodotti sono molto importanti e siamo orgogliosi di avere un portafoglio di referenze molto equilibrato, essendo in alcuni casi i leader negli specifici mercati di riferimento a livello internazionale. L'offerta di Norgine, però, si compone anche di prodotti salvavita per pazienti affetti di particolari patologie. Si tratta di una niccia di mercato che riguarda un numero limitato di persone che necessitano di cure specifiche altamente specialistiche e che, in linea con i nostri valori e la nostra visione, sono sempre al centro della nostra attenzione, di tutto ciò che facciamo. Ecco, parliamo adesso per un istante dell'impegno vostro da un punto di vista della responsabilità sociale. Faccio solo una premessa, poi lascio a lei naturalmente la parola. Siete stati selezionati come finalisti perché rappresentate l'eccellenza da un punto di vista dell'innovazione e della ricerca dello sviluppo, oltre che per il fatto che siete leader europei nelle referenze per la gastroenterologia. E quindi, insomma, quali sono le azioni che avete messo in campo per raggiungere questi risultati? Perché poi partiamo da qui per guardare anche al futuro. In quanto riguarda la nostra politica di responsabilità sociale di impresa, facciamo una campagna stancabile per garantire che il maggior numero possibile di pazienti possa accedere ai nostri farmaci che sono in grado di migliorare la qualità e la prospettiva della loro vita. Il nostro impegno a trasformare la vita delle persone guida tutto ciò che facciamo e siamo orgogliosi di avere una profonda comprensione e empatia verso i pazienti e le loro esigenze. Proprio per questo poi abbiamo contribuito a sostenere cause e iniziative direttamente collegate al nostro lavoro in Orgin, consapevoli di poter aggiungere il valore alla nostra esperienza. Di recente, ad esempio, abbiamo fatto una serie di donazioni di dispositivi di protezione individuale e altre attrezzature ai servizi sanitari locali per aiutarla a gestire la crisi Covid-19. In Italia, all'inizio della pandemia, abbiamo donato due respiratori all'ospedale di Brescia, che in quel momento era uno dei più colpiti. Lavoriamo anche in collaborazione con enti di beneficenza e organizzazioni pazienti di tutto il mondo per aiutare le persone ad avere accesso a quei farmaci al quali altrimenti non potrebbero accedere. Proprio di recente, siamo stati partner di FISMAT, la Federazione Italiana Società Malattie Apparato Dirigente e Cittadina Anziativa, un'organizzazione dei cittadini italiani, nella campagna di prevenzione oncologica per lo screening del cancro al colo recto. Contemporaneamente ci preoccupiamo per il nostro pianeta. La nostra politica ambientale non solo stabilisce oggettivi ambiziosi, ma impegna anche i nostri dipendenti a collaborare con l'azienda per promuovere estelte responsabili a tutelare il pianeta. Quanto riguarda la ricerca e sviluppo, Norge è una delle principali aziende farmaceutiche specializzate europee, che dà oltre a un secolo porta medicinale innovativi ai pazienti. I nostri obiettivi si rinnovano continuamente e diventano sempre più ambiziosi e importanti. Di recente, ad esempio, abbiamo deciso di sostenere i pazienti che assumono anticoagulanti e che possono essere a rischio di morragi gravi e incontrollate, soprattutto in situazioni di emergenza. Siamo orgogliosi di poter lavorare allo sviluppo di un nuovo trattamento potenzialmente salvavita, subordinato al completamento del relativo programma di ricerca e alla successiva approvazione regolatoria del Paese. Quanto riguarda il leader del mercato europeo, la nostra agile infrastruttura europea e l'accezionale approccio di partnership ci permette di portare rapidamente i pazienti alle cure di cui hanno bisogno. Abbiamo una presenza diretta in 12 Paesi europei, oltre che in Australia e in Nuova Zelanda e abbiamo una forte tradizione nel portare con successo i nostri prodotti sul mercato europeo. Abbiamo anche una forte rete globale di partnership nei mercati non-nordine, come esempio Stati Uniti, Giappone, Cina. Il nostro sviluppo, anno dopo anno, è stato rapido ed esponenziale, con una crescita del 6% a livello globale del 18,5% a livello italiano nel solo 2019. Ma è il netto di numeri che ci rende davvero fieri e che questa crescita si traduzza nella possibilità concreta di aiutare un maggior numero di pazienti e di investire nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci. Di recente Norgin ha ampliato la propria sfera di interesse e ha acquisito a Santa, una società biofarmaceutica specializzata nel settore della salute delle donne, delle medicine, delle dipendenze e dell'oncologia. La nostra struttura flessibile, il nostro modello di business integrato ci consentono di applicare rapidamente soluzioni creative per portare ai pazienti medicinali che assicurano loro un deciso miglioramento della qualità della vita. Farmaci importanti che rendiamo ogni giorno sempre più accessibili a un numero sempre maggiore di persone al mondo. Nel 2020 raggiungono i 23 milioni di pazienti. Per concludere, nel rinnovare nuovamente a nome dell'Azienda il nostro ringraziamento per essere qui con voi, desidero rivolgere il pensiero a tutti gli operatori del sistema sanitario italiano e globale, impegnati ogni giorno in prima linea per il bene dei pazienti. Questo anno per loro è stato davvero difficile operare una situazione imprevista e imprevedibile come quella di una pandemia, eppure non hanno mancato mai da assolvere il loro dovere. Dal canto nostro, nella volontà di proteggere tutti il nostro personale, che rappresenta la nostra risorsa più preziosa e insostituibile, ci siamo attivati fin da prima del lockdown di marzo per consentire a tutti di lavorare in sicurezza da remoto. La nostra operatività, così come la prontezza nel rispondere alle richieste dei nostri farmaci, non sono mai venute meno, perché il bisogno di salute è oggi più che mai un bisogno universale e ogni singola persona che lavora in Orgin si impegna a fondo, accanto a medici e istituzioni sanitarie, per garantirlo sempre. Assolutamente sì, insomma, un discorso che ancora di più si inserisce perfettamente nel contesto che lei ha assolutamente ricordato e che tutti noi conosciamo. Grazie a José Antonio Altozzano per essere stato con noi e complimenti ancora a lei e a tutto il suo team naturalmente. Grazie. Grazie mille, grazie all'attenzione. Grazie a voi.